La protesta ad oltranza organizzata dai lavoratori che si occupano di assistenza agli anziani si avvale del supporto del sindacato, presente presidi anche il segretario della Camera del Lavoro della CGL, Ignazio Giudice. Quali sono le possibili soluzioni? Le lavoratrici stanno mantenendo i servizi nei quali sono impiegati, l'assistenza agli anziani, agginabili, così come le case famiglie e trasporto, ma la CGL e la CISL insieme a loro è stanga di seguire un'avvertenza che sembra essere senza fine. Il dramma di coloro che lavorano è esattamente quasi uguale paradossalmente ai disoccupati. Lavorano e non percepiscono lo stipendio, non hanno risposte. Le cooperative sono a collasso, hanno dimostrato di aver ricevuto pochi pagamenti, di aver già versato i contributi ai fini pensionistici, ma non ce la fanno a derogare i soldi. Delle due l'una, o si sospendono i servizi o il Comune di Ingella si decide ad istituire un tavolo, questa volta permanente, per accendere un riflettore sugli appalti e le convenzioni erogate ai servizi sociali, spegnere questo riflettore quando la vicenda è risolta. Siamo per accudire gli anziani, gli inabili per fare il trasporto, ma non siamo per diventare soggetti deboli anche noi, quello che siamo in questo momento. Lei ha ancora margine di ottimismo? Sì, perché abbiamo una proposta che da queste telecamere parte. Entro qualche giorno i cittadini di Gela, quelli che se lo possono ammettere, pagheranno l'Imo. Noi proponiamo alla politica di acquisire una parte di quei soldi e destinarli ai lavoratori di servizi sociali, in questo caso così come tutti i disoccupati e le lavoratrici che ne hanno bisogno. Questa mattina abbiamo anche sentito l'assessore a ramo, Ugo Costa. Pensiamo con i primi fondi che rientrano dall'Imo e da altri pagamenti di fare verso fine giugno, prima di luglio. Diciamo per coprire quello che è, un primo percorso lo abbiamo già contattato sia con la cooperativa sia con i sindacati. Assessore, che tempi di risoluzione abbiamo del problema? Se è possibile stabilirlo? I primi segnali devono essere già tra oggi e domani, proprio addirittura qualcuno doveva avere lo stipendio di oggi stamattina. Quindi verifichiamo adesso questa operazione e vediamo.